A Ravenna 2012 siamo con Mario Sonseri, direttore della manifestazione. Ecco, facciamo un bilancio preventivo di quello che sarà Ravenna 2012. Ma Ravenna 2012 conferma il suo ruolo di momento di incontro e scambio di idee anche fuori dall'autoreferenzialità, fuori dalle righe, il bisogno di confrontarsi sui temi reali, sui problemi e sulle opportunità e quindi c'è questa voglia, specialmente in questo momento di crisi, di confrontarsi sul vero tenendo fuori un po' quelle che sono le sovrastrutture e andando sul concreto dei problemi. Ecco, andiamo invece nel particolare e parliamo di progetto LIFE, di RAE, di rifiuti, di gestione dei rifiuti. Abbiamo un grande progetto esposto qui in piazza, vuoi parlarci un po' di questo momento? Quest'anno siamo molto contenti di ospitare a Ravenna un progetto europeo che si chiama LIFE Identity Suite, che nasce da un partenariato italiano, spagnolo e rumeno con in Italia ERA e Ecolite, teso a capire come possiamo e come dovremo incrementare la raccolta dei rifiuti elettrici e elettronici, che rappresenta un reale problema ma anche un'opportunità perché è il recupero di materie prime scarse e ricche che stanno sempre più utilizzate nell'industria elettronica. Su questo saranno presentati, anzi sono presenti qua, dei prototipi proprio per, uno, incentivare l'utilizzo dei contenitori per i piccoli elettromestici, due, per tracciare questo percorso e per evitare che si creino anche culture di illegalità e di trasferimento non controllato dei rifiuti verso l'estero. Di questo siamo molto contenti. Abbiamo in piazza un cassonetto intelligente, giusto? Puoi spiegarci un po' di cosa si tratta? È un nome giornalistico ovviamente questo, però è qua in piazza e lo vediamo funzionare. Il cassonetto intelligente è tutto quello che permette all'utente, al cittadino, di controllare ed essere controllato nel momento in cui conferisce un rifiuto o meglio una risorsa, che può essere una materia prima o seconda, può essere un rifiuto elettronico. Questo non solo nella fase di conferimento, ma poi tramite un sistema di software e traspondere, seguire tutto il percorso e il tracciato che fa questo rifiuto. Questo è quello che l'Europa ci chiede, di certificare e tracciare la correttezza del recupero e del riuso e anche di arrivare a sistemi tariffari in cui un domani i cittadini pagheranno per quanto producono, o meglio anche pagheranno per quanta raccolta differenziata riescono a fare, quindi avranno delle compensazioni economiche. Grazie Mario, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.